Senso noi abbiamo, dobbiamo continuare a avere il dovere della verità, cerchiamo di avvicinarci almeno, cerchiamo di, quindi anche Giorgia Meloni verrà da te prima o poi. Eh perbacco, secondo me è già giovedì prossimo, esercizio di ottimismo. Siccome è una donna intelligente, una donna poi molto in ascesa, molto, diciamo che pensare di non dover rendere conto delle proprie azioni ai cittadini e quindi ai giornalisti che fanno da intermediari, è una pura illusione, almeno nelle democrazie così funziona. Qui ci sarà nei suoi confronti il rispetto e il tempo per poter ascoltare in diretta quello che avrà da dire. Saluto Romano.